Allora Riccione è anche un punto di vista privilegiato su quello che succederà, la prima domanda però è come si riporta la gente al Cino, qual è la strategia giusta secondo me? La strategia giusta è avere chiaramente il film giusto, abbiamo capito che dopo questo periodo in cui chiaramente i consumatori hanno fatto anche altro, hanno visto tantissimi film sulle piattaforme eccetera, se c'è il film giusto escono di casa e vanno a vederlo, quindi lo spettatore è diventato molto più selettivo, sceglie con cura i film da vedere, è difficile riportarlo in sala se non è convinto, quindi è importante scegliere i materiali giusti e conoscere lo spettatore in maniera approfondita, che è una cosa che noi come Universal stiamo facendo, portando avanti una ricerca che è quella come Cine Expert, che ci dà la possibilità di avere tutte le settimane il profilo di chi è andato al cinema, ieri c'è stato un panel con Cinetel dove è stata presentata, perché soltanto conoscendo lo spettatore lo si potrà riportare in sala, in Italia ci sono più o meno 9 milioni di spettatori che non sono tornati in sala, i moviegoers sono circa 30 milioni, erano questi pre-pandemia su una popolazione di 64 milioni di italiani, quindi erano già prima della pandemia la metà della popolazione, ora ne abbiamo persi un terzo quasi, ma si possono riportare in sala, noi siamo molto fiduciosi trovando il film giusto, le campagne di marketing giuste. Sarà l'effetto nostalgia, sarà l'effetto un po' anche pre-pandemia, ma uno dei titoli che ci ha più colpito è Ticket to Paradise con la coppia meravigliosa, George Clooney e Julia Roberts. Sì, devo dire che è una commedia molto 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 divertente, noi siamo veramente, quando l'abbiamo vista, abbiamo proprio pensato che è il classico film che uno vuole vedere, dove si vuole divertire e non vuole pensare, i loro due sono strepitosi e quindi uscirà in una data buona, molto buona, perché diciamo il 6 ottobre per le commedie è una data molto interessante e soprattutto veramente c'è il classico film che uno esce di casa e passa due ore rilassato in una sala. Con George Clooney e Julia Roberts. Siete uno dei pochi attivi d'estate, perché avete sia i Minions che Jordan Peele con Nope. La stagionalità è persa o siete ottimisti voi, visto che insomma ci sono punti di vista contrastanti? Allora, noi come Universal abbiamo sempre, sempre, sempre posizionato i film d'estate. Io ricordo Mission Impossible di veramente tantissimi anni fa, al 7 di luglio, una data incredibile che aprì veramente uno squarcio nella stagionalità estiva, cioè quindi noi ci crediamo molto e ci mettiamo i film, quindi ci crediamo e ci mettiamo i film. Quindi direi che per noi la destagionalizzazione è un argomento primario, ma tutti dovrebbero farlo, perché chiaramente i nostri film non bastano per ricreare un'abitudine ad andare in sala d'estate. Grazie mille.